A Bitonto siamo arrivati a 197 casi positivi, a Mariotto 14 e a Palombaio 4. La decisione che abbiamo preso è che dal 16 novembre al 3 dicembre anche la città di Bitonto prevede con un'ordinanza del sindaco la chiusura anticipata delle attività di commercio al dettaglio, attività artigianali, attività di picco artigianato, attività barbieri, estetisti alle ore 19, senza prevedere comunque dando la possibilità alle attività di organizzarsi autonomamente per l'orario di inizio. Questa chiusura anticipata delle 19 non tocca le attività che sono già approvate a livello economico e che si sono ovviamente limitate per il DPCM soltanto all'asporto e al domicilio. Quindi da questo orario anticipato sono esclusi i bar, i ristoranti, le gelaterie, le rosticerie e poi ovviamente tutto quello che prevede i beni di prima necessità, quindi i supermercati, le pescherie, tutti quelli che vendono insomma beni di prima necessità così come le farmacie e le parafarmacie. Prima di pubblicare questa ordinanza che ripeto avrà effetto dal lunedì prossimo ho chiesto il parere alle associazioni di categoria, associazioni in categoria che io voglio ringraziare perché mi hanno dato una risposta in 24 ore, ci hanno confortato, hanno compreso il momento e per loro anche gli associati. Questo è un ulteriore sacrificio che noi stiamo chiedendo alle nostre attività commerciali, ai negozi. Spero che tutti questi sacrifici, questo enorme dolore venga compensato dal nostro senso civico e dalla nostra, dal nostro senso di appartenenza anche di responsabilità nei confronti del bene dell'altro. Spero di non essere il sindaco di una città in lockdown ma temo che la curva dei contagi ci porterà a questo.